Il Ministero dell'Ambiente è disponibile ad affrettare i tempi ma intanto è stato richiesto un supplemento di documentazione perché ci sono da valutare tutti gli incartamenti necessari per la valutazione di impatto ambientale. Il Ministro Galletti assicura piena disponibilità a velocizzare le procedure per il dragaggio del porto di Salerno dopo che anche il Presidente e l'autorità portuale unica Pietro Spirito, in città per salutare la sigla di un accordo commerciale che rafforza la vocazione intercontinentale dello scalo salernitano, aveva sottolineato la necessità di avere risposte cederi su un tema decisivo per lo sviluppo. Il responsabile dell'Ambiente lo ha fatto a margine della sua visita a Salerno un tour per promuovere la sfida dei moderati con le primarie dei centristi prima delle politiche nel quale non è mancato anche un endorsement al piano rifiuti redatto dalla Regione Campania guidata dal Governatore De Luca. Ha approvato un nuovo piano rifiuti, questo piano rifiuti è stato da noi condiviso e oggi è alla discussione di Bruxelles. Credo che questo piano sia innovativo rispetto anche al panorama nazionale. Abbiamo il problema delle coballe che è affrontato con molta determinazione, il Governo gli è stato vicino, noi abbiamo stanziato 450 milioni proprio per i rifiuti campani e penso che sia intrapreso una strada che andrà seguita nei prossimi mesi e nei prossimi anni ma che può dare una buona soluzione.